E' benvenuto in questo nuovo video, io sono Jack Logan e oggi siamo qui su Call of Duty Black Ops 3 E come potete vedere è una partita a caso, completamente a caso, perchè non sapevo che fare Carichiamo una partita, dove sto facendo 2-6, perchè così è bello, è fiero E sarà una partita a cazzo di cane AAAAAH! 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 Ok, perfetto, bene con Shite, cominciamo benissimo proprio Questa partita è proprio a cazzo ragazzi, è a cazzo Ehi, per tua mamma, c'è tutto, c'è Buonasera, buonasera, no no no, aspetti, aspetti, aspetti Vaffanculo AAAAAH! 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 Che cazzo è successo? AAAAAH! AAAAAH! No no! E che cazzo però? Io scappo, 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 attenzione, scappo Oh no, oh no, eeeh, tua mamma EEEH! 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 E l'ambulanza, bella lì, frate, o cazzo? No, madonna, madonna! Ohhhh... Ehh... Ma che cazzo...allora, sono pronti Ma che palle è questa ambulanza, quanto dura? AAAAAH! 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 Chi cazzo è chi cazzo? AAAAAH! Eeh, vabbè No, 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 no E devi morire però, devi morire Madonna di Dio Aiuto, no Attenzione ragazzi, attenzione ragazzi Vai Dai così, è già difficile prima No It's funny Un gioco davvero di pro No, no, aspetta, aspetta ragiona Che sono stronzo Fermo Quante vera la Madonna del Carmelo No, no, eh, dai No, ah, ah Chi è, chi è Madonna, donna benedetta Dov'è, dov'è quella baldracca Venga qua Venga, ah è morto Non vedo un cazzo poi Ah, ah, no Ma sono morti tutti Sono morti tutti, ah Madonna sto gioco Oddio, 10-21 Wow, wow It's very very good Eh, che cazzo però Fate spawnare per favore Bene, questa partita It's very good ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Eh, no Fa schifo questo video Non merda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.